È passato solo un secolo da quando in Borgo Milano l'agricoltura era il cuore pulsante dell'economia del quartiere e la conformazione dell'area, delle strade e delle case era completamente opposta a quella a cui siamo abituati. In questi cento anni Borgo Milano è passato da quartiere a vocazione agricola, poi industriale e infine ai giorni nostri a vocazione residenziale. Grandi trasformazioni che lo scrittore storico Davide Peccantini ha voluto raccogliere in un libro, supportando le documentazioni di archivio di Stato, archivio della diocesi e biblioteche con testimonianze e aneddoti. Ci sono molti aneddoti come la richiesta da parte dell'abitante di Borgo Milano il 24 della costruzione di una chiesa proprio al centro tra San Massimo e San Zeno oppure anche la ricostruzione delle vittime del bombardamento del 4 gennaio del 45, corredato poi da fotografie, aneddoti, testimonianze e mappe e statistiche sull'andamento della popolazione nei vari decenni del XX secolo. Com'è stato affrontare questo lavoro? Ah beh interessante anche perché si scoprono molti aneddoti che non si sa oppure si sono sentiti dire però da storico ci deve essere anche la certezza del documento che esiste e quindi c'è la conferma del documento trovato in archivio di Stato, nell'archivio comunale. Grazie.